Nelle precedenti video lezioni abbiamo visto che per gli stoici la filosofia si divide in logica, fisica ed etica. Nella precedente puntata abbiamo visto la logica, oggi invece iniziamo il nostro percorso verso la fisica stoica. Per gli stoici esiste un ordine immutabile, razionale, perfetto e necessario, che governa e sorregge tutte le cose, facendo in modo che esse esistano e che si conservano. Gli stoici identificano questo ordine perfetto, immutabile, razionale e necessario con Dio. Come vedremo tra poco, la fisica stoica è un rigoloso panteismo, perché gli stoici identificano Dio con il cosmo, cioè l'ordine necessario del mondo. Per gli stoici esistono due principi, il principio attivo e il principio passivo. Questi due principi sono materiali e inseparabili l'uno dall'altro. Il principio passivo è la sostanza spoglia di qualità, cioè la materia. La materia è inerte e ha bisogno di essere mossa. Il principio attivo invece è la ragione, cioè Dio, la causa che muove la materia, che è il principio passivo. Principio attivo e principio passivo, cioè causa e materia, sono corporei. Per gli stoici esiste solo il corpo che agisce e subisce un'azione. Dio, essendo principio attivo, è corpo. E per gli stoici esistono solamente quattro specie di cose incorporee, il significato, il vuoto, il luogo e il tempo. Dio è corpo, è ragione cosmica e causa di tutto. Per gli stoici Dio è corpo, ma anche fuoco, ma non il fuoco aggressivo degli uomini che distruggono tutto, ma un soffio caldo e vitale, che conserva, alimenta, cresce e sostiene. Il soffio caldo di Dio è corpo, è la ragione seminale del mondo, perché è seme di tutti i semi da cui tutto si genera. Dio è ragione seminale, quindi, cioè seme di tutti i semi. Ogni parte dell'universo nasce dal proprio seme razionale, cioè dalla propria ragione seminale. Le ragioni seminali sono mescolate l'una con l'altra, ma sviluppandosi si separano e danno vita a esseri diversi. Non ci sono nel mondo due cose identiche tra loro, neppure due fili d'erba. Come abbiamo visto, per gli stoici esiste un ordine razionale, perfetto, immutabile e necessario. Per questo la vita del mondo ha un suo ciclo e i cicli cosmici si ripetono per l'eternità. Dopo il grande anno, cioè un lungo periodo di tempo, gli astri tornano nella posizione iniziale in cui si trovavano e avviene una conflagrazione, cioè una combustione che comporta la distruzione di tutti gli esseri. L'universo si rigenera mantenendo lo stesso ordine cosmico e si verificano gli stessi avvenimenti del ciclo precedente, senza nessuna modificazione. Quindi ci sarà sempre lo stesso Socrate, lo stesso Platone, con la stessa casa, i propri amici e via dicendo. Il destino è la legge necessaria che regge le cose, è l'ordine del mondo e la concatenazione necessaria che l'ordine pone tra gli esseri viventi. Quindi ha un ordine necessario e per questo motivo ad ogni fatto ne consegue un altro e ad ogni causa è seguita da un'altra causa. Per gli stoici Dio è ragione, destino, provvidenza e corpo. Così come l'ordine dell'universo è perfetto, razionale, immutabile e necessario, anche il male è necessario per l'esistenza del bene. La novità degli stoici rispetto al pensiero greco sta nel ritenere che il male, cioè ciò che appare negativo, è stato prodotto per il bene degli uomini. Il male, che è negativo, garantisce il bene degli uomini. Questa è una visione antropocentrica ed è la novità del pensiero stoico rispetto al mondo greco. Come abbiamo visto per gli stoici tutto è generato da Dio, che è ragione seminale. Inoltre identificano Dio con il cosmo, cioè con l'ordine necessario del mondo. La fisica stoica è un rigoroso panteismo perché essi identificano Dio con il cosmo, abbiamo visto, cioè con l'ordine necessario del mondo. Il mondo è retto da un ordine necessario e da una legge necessaria. Tuttavia per gli stoici esiste la mantica, ossia l'arte di prevedere il futuro mediante l'interpretazione dell'ordine necessario delle cose. Solo il filosofo è in grado di farlo. Per gli stoici abbiamo visto tutto è corpo, Dio è corpo, è ragione cosmica, è causa di tutto, è fuoco, cioè soffio caldo e vitale che genera tutto. L'anima umana è corpo ma è parte dell'anima del mondo, cioè di Dio. L'anima umana è parte dell'anima del mondo come Dio è soffio vitale, fuoco e sopravvive alla morte nel seno dell'anima del mondo. Le parti dell'anima sono quattro, il principio direttivo o egemonico, che è la ragione, i cinque sensi, il seme e il linguaggio. Per gli stoici il principio direttivo, cioè la ragione, genera e controlla le altre parti dell'anima, protendendosi in essa come i tentacoli di un polipo. Per gli stoici la libertà consiste nell'essere causa di sé, cioè essere padroni dei propri atti o dei propri movimenti. Per gli stoici la libertà è autodeterminazione, ma solo il sapiente è libero perché si autodetermina, cioè si conforma all'ordine del mondo, al destino. La libertà coincide con la necessità e Crisippo, il secondo fondatore dello stoicismo, per ristabilire una sorta di autonomia della libertà umana rispetto alle necessità universale, cioè il destino, introduce la distinzione tra le cause perfette o fondamentali e le cause concomitanti o prossime. Le cause perfette o fondamentali hanno necessità assoluta e non subiscono nessuna influenza da parte dell'uomo, ma solo il saggio sa autodeterminarsi. Le cause concomitanti o prossime sono quelle a cui gli uomini possono opporsi. Rimane potere degli uomini imprimere il proprio assenso alle cause concomitanti o prossime. In questa video lezione è imparato che per gli stoici esiste un ordine perfetto, immutabile, razionale e necessario, che governa e sorregge tutte le cose. E si lo identificano con Dio che è corpo, fuoco, soffio caldo e vitale, la ragione seminale perché tutto è generato da Dio. Per gli stoici esistono due principi, il principio attivo e il principio passivo. Il principio passivo è la sostanza spoglia di qualità, cioè la materia. La materia è inerte e ha bisogno di essere mossa. Il principio attivo è la ragione, cioè Dio che è la causa che muove la materia. La vita del mondo si genera tramite i cicli cosmici. Il destino è la legge necessaria che regge le cose ed esiste un ordine del mondo. Il sapiente tramite la mantica può interpretare l'ordine delle cose e prevedere il futuro. La novità del pensiero stoico è ritenere che il male è stato prodotto per il bene degli uomini. La libertà per gli stoici consiste nell'essere causa di sé, cioè essere padroni dei propri atti o dei propri movimenti. Il sapiente si autodetermina. Ti ricordo come sempre di iscriverti al mio canale se ancora non lo hai fatto per essere sempre aggiornato sui video che posto e di iscriverti anche agli altri miei canali social Instagram, Facebook e LinkedIn. Alla prossima!